il capitano michael aveva un braccio solo che trovava molto utile per accendersi la pipa era un vecchio lupo di mare con il quale avevo fatto conoscenza insieme ad altri quattro vecchi filibustieri una sera al caffè all'aperto sulla via il dars a tolone dove stavo sorseggiando un aperitivo in questo modo prendemmo l'abitudine di radunarci a bere un bicchiere accanto alle onde del mare e alle barchette beccheggianti più o meno all'ora in cui il sole scende dietro il tamarè i quattro lupi di mare erano conosciuti con il nome di zinzi dorà capitano dorà bagatelle e chalier il buon vecchio chalier naturalmente avevano velezzato su tutti i mari e avevano avuto mille avventure ora si erano ritirati a vivere delle loro pensioni e passavano il tempo a raccontarsi storie terribili il capitano michael era l'unico a non abbandonarsi ai ricordi e siccome non sembrava affatto sorpreso di quel che gli veniva raccontato i suoi compagni alla fine si esasperarono sentite capitano michael non vi è mai successo niente di straordinario oh sì rispose il capitano togliendosi di bocca la pipa sì qualcosa mi è successo una volta ma solo una volta beh sentiamo no perché no perché è una storia troppo terribile potreste non riuscire a sopportarla ho spesso tentato di raccontarla ma la gente si è dileguata prima che potessi terminarla i quattro lupi di mare accolsero questa affermazione con grandi risate sonore uno più forte dell'altra dichiararono che il capitano michael cercava evidentemente una scusa perché in realtà niente di veramente straordinario doveva essergli mai capitato il vecchio li squadrò per un momento e poi all'improvviso accettò la situazione e depose la sua pipa sul tavolo quel gesto insolito era già di per sé un sufficiente motivo di meraviglia signori vi racconterò come persi il brazzo cominciò allora una ventina d'anni or sono possedevo una piccola villa nel sobborgo di lemorillon che mi era stata lasciata in testamento poiché la mia famiglia si era stabilita da un pezzo in questa zona e io stesso sono nato qui mi faceva comodo per riposarmi dopo un lungo viaggio prima di riprendere il mare per questo motivo amavo quel posto e vivevo placidamente tra la gente di mare e la gente delle colonie che mi davano ben poco pensiero li vedevo raramente perché erano sempre occupati a fumare oppio si interessavano di altri affari che non avevano niente a che fare con me naturalmente i gusti non si discutono ma finché non mi disturbavano io ero soddisfatto capitò che una sera disturbarono il mio sonno fui svegliato all'improvviso da un baccano straordinario di cui non riuscivo a capire il motivo come al solito avevo lasciato la finestra spalancata ascoltai sconcertato un tremendo fragore che era un misto tra il bruntolio di un tuono e il rullo di un tamburo ma che tamburo sembrava come se 200 bacchette per potessero all'impazzata un tamburo ma non si trattava del suono di un normale tamburo di pelle sembrava piuttosto un tamburo di legno il casso veniva da una villa di fronte alla mia che era rimasta vuota per circa cinque anni e sulla quale la sera prima avevo notato un cartello che annunciava in vendita lasciai che il mio sguardo vagasse dalla finestra della mia stanza situata al primo piano della casa e si spingesse oltre il giardino in cui sorgeva l'edificio i miei occhi registrarono ogni porta e ogni finestra anche quelle del piano terra queste erano rimaste chiuse esattamente come le avevo viste durante la giornata ma mi accorsi che dei raggi di luce penetravano dalle fessure delle persiane del piano terra chi erano quelle persone come erano capitate in quella casa solitaria al limite estremo di lemoriò che sorta di compagnia era quella che aveva ottenuto il permesso di penetrare in quella di mola deserta e perché stavano facendo tanta cagnara il fracasso simile al rullare di un tamburo di legno continuava continuò per un'altra ora e all'alba la porta principale si aprì e apparve sulla soglia la più radiosa creatura che abbia mai visto indossava un abito scollato e sorreggeva con grazia una lampada i cui raggi ne illuminavano le spalle divine udì distintamente le sue parole che echeggiarono nella notte silenziosa mentre una sorta di sorriso gentile e mite si disegnava sulle sue labbra buonanotte caro amico all'anno venturo a chi erano dirette quelle parole mi era impossibile capirlo perché non riuscivo a vedere nessuno accanto a lei rimase sull'entrata per alcuni minuti fino che il cancello del giardino non si aprì da solo per poi richiudersi quindi il portone venne chiuso e io non vidi più nulla mi sembrava evidente che stavo diventando pazzo oppure che ero in preda a un sogno perché capiva bene che nessuno avrebbe potuto attraversare il giardino senza che io lo vedessi ero ancora lì fermo nel vano della finestra incapace di muovermi o di pensare quando all'improvviso la porta della casa si aprì nuovamente e la stessa visione di bellezza riapparve anche questa volta sorreggeva una lampada e anche questa volta era sola zitti disse non fate rumore o disturberete il nostro vicino vi accompagnerò sola e silenziosa attraversò il giardino fermandosi al cancello che luccicò sotto i raggi della lampada infatti era così ben illuminato che riuscì a vedere chiaramente la maniglia che si muoveva da sola senza che una sola mano vi si fosse poggiata il cancello si aprì ancora una volta da solo alla presenza della donna che per di più non manifestò il minimo segno di sorpresa c'è bisogno che sottolinei che dalla mia posizione vedevo sia all'interno che l'esterno del cancello ossia in altre parole che lo vedevo discorcio quella splendida apparizione fece un grazioso movimento con la testa indicando il buio che mostravano i raggi della lampada poi sorrise disse addio fino all'anno prossimo mio marito è molto contento nessuno di voi ha trascurato di accorrere al suo richiamo addio signori sentì diverse voci rispondere in coro addio madame arrivederci cara signora arrivederci all'anno venturo e mentre la misteriosa ospite si accingeva chiudere la porta udì una voce che diceva oh la prego non si disturbi poi la porta si chiuse di nuovo subito dopo l'aria si riempì di uno strano suono era simile al cinguettio di uno stormo di uccelli e sembrava come se la giovane donna avesse coperto la porta di una gabbia contenente migliaia di passeri silenziosamente si avviò verso la casa le luci al piano terra erano spente ma notai una luce fioca che proveniva da una delle finestre del primo piano quando lei giunse davanti alla casa chiamò sei al piano di sopra gerard non riuscì a sentire la risposta ma la porta principale si chiuse e pochi minuti più tardi la luce dal primo piano si spense arrivarono le otto di mattina io ero ancora in piedi lì vicino e fissavo con aria incredula la casa al giardino che durante la notte erano stati teatro di quegli strani avvenimenti mentre adesso avevano riacquistato il loro solito aspetto il giardino era abbandonato e incolto e la casa sembrava deserta come sempre infatti sembrava così disabitata che quando raccontai alla vecchia che veniva a farmi le pulizie gli avvenimenti cui avevo assistito dai mi batte ripetutamente il dito sulla fronte mormonando che dovevo aver fumato troppo la mia pipa io non sono mai stato un fumatore di oppio e la sua risposta mi fornì l'occasione che aspettavo per liberarmi di quella vecchia strega che avevo ingazzato perché venisse a dare una pulita un paio di ore al giorno per la verità non avevo bisogno di nessuno perché sarei ripartito il giorno seguente avevo appena il tempo di radunare le mie cose fare alcuni acquisti salutare i miei amici e prendere il treno per le avra avevo assunto un impegno con la compagnia transatlantiche che mi avrebbe tenuto lontano da tolone per undici o dodici mesi finalmente tornai a tolone ma nonostante avessi evitato di menzionare la mia avventura continuavo a ripensarci di tanto in tanto la visione della signora con la rampada mi ossessionava ovunque andassi e le ultime parole che aveva pronunciato salutando i suoi amici invisibili mi eccheggiavano nelle orecchie beh addio fino all'anno prossimo non smisi mai di pensare a quell'appuntamento anche io sarei stato presente e avrei scoperto a qualsiasi costo la soluzione del mistero che mi aveva reso così perplesso io un uomo eminentemente pratico che non credeva agli spiriti o ai fantasmi sfortunatamente dovetti presto imparare che nel cielo e nell'inferno avevano a che fare con quella storia terribile erano le sei della sera quando finalmente rientrai nella mia casa di tolone e ci vogliono altri due giorni prima che ricapitasse l'anniversario di quella notte incredibile la prima cosa che feci quando l'incasai fu di salire in camera e aprire la finestra era estate ed era ancora pieno giorno i miei occhi scorsero una signora di grande bellezza che passeggiava placidamente nel giardino della casa di fronte intenta a raccogliere fiori sentendo il rumore della finestra che si apriva al solo sguardo era la signora della lampada per i colobbi e non mi sembrò meno bella alla luce del giorno la sua pelle era bianca come i denti di un negro africano gli occhi erano più azzurri dell'acqua del tamarè e i suoi capelli erano soffici e chiari come grano perché non confessarle tutto quando rividi quella donna che aveva turbato i miei sonni per un anno intero trovai una strana sensazione quella non era l'illusione di una fantasia malata lei mi stava di fronte in carne ed ossa ogni finestra della casa era aperta e decolata con i fiori che aveva raccolto non c'era niente di soprannaturale in tutto quello poi lei si accorse di me e subito mostrò di non esserne molto contenta in pochi passi si avvicinò al centro del sentiero del giardino quindi scuotendo le spalle come se fosse sconcertata disse rientriamo gerard comincio a sentire l'umidità della sera lasciai che il mio sguardo vagasse per il giardino non vedi nessuno a chi erano rivolte le sue parole non c'era nessuno era forse pazza non lo sembrava proprio la vedi ritornare in casa oltrepassò la soglia la porta si chiuse e subito dopo lei chiuse anche le finestre non vidi neudi niente di straordinario quella notte il mattino seguente alle dieci osservai la mia vicina mentre lasciava la casa abbigliata come se si accingesse a una passeggiata chiuse a chiave il cancello e si diresse verso tolone uscì anch'io indicando la figura elegante che mi precedeva chiede sia il primo commerciante che incontrai se per caso conosceva il nome di quella signora ma certo è la vostra vicina vive con suo marito a villa macoco si sono stabiliti lì circa un anno fa proprio quando siete partiti sono degli zotici non parlano mai a nessuno a meno che non sia strettamente necessario ma tutti gli abitanti di le morillon come sapete vanno per la loro strada e non si sorprendono di nulla il capitano per esempio quale capitano il capitano gerard pare sia un capitano della marina a riposo beh nessuno lo vede mai qualche volta quando deve essere consegnato del cibo alla villa e la signora non è in casa qualcuno grida un ordine da dietro la porta dicendo di lasciare tutti i pacchi sulla soglia e aspetta che vi siate allontanato parecchio prima di aprire e recuperarli potete immaginare la mia sorpresa nell'udire quelle parole andai a tolone per chiedere alcune informazioni su quelle persone all'agente immobiliare che aveva affittato la villa anche lui non aveva mai visto il marito ma mi disse che il suo nome era gerard bovisage quando sentì il nome e mise un grido gerard bovisage ma io lo conosco bene era il nome di un mio vecchio amico che non vedevo da 25 anni allora era un ufficiale di marina ed era partito da tolone per il tonchino proprio in quel periodo come potevo dubitare che si trattasse proprio di lui ad ogni modo avevo una valida ragione per vederlo quella stessa sera men che aspettasse una visita da parte dei suoi amici infatti era l'anniversario di quella notte famosa decisi di riprendere la nostra vecchia amicizia quando tornai a Lemorio vidi di fronte a me nella strada fossata che portava a Villa Macoco la figura della mia vicina non esitai anzi mi affrettai a raggiungerla ho l'onore di parlare con madame bovisage la moglie del capitano gerard bovisage le chiesi con un inchino lei arrossì e cercò di passare oltre senza rispondermi madame io sono il vostro vicino il capitano michael alban insistei oh perdonatemi messie rispose mio marito parla spesso di voi capitano michael alban sembrava terribilmente impacciata eppure nella sua confusione era ancora più bella se ciò era possibile nonostante fosse evidente che volesse sfuggirmi continuai come mai capitano bovisage è tornato in franza senza avvertire i suoi vecchi amici le sarei molto obbligato se riferisse a gerard che ho intenzione di venire a salutarlo stasera stessa osservando chi affrettava il passo mi inchinaima mentre parlavo lei si voltò tradendo un'agitazione che era sempre più difficile comprendere stasera è impossibile ma prometto di dire a gerard del nostro incontro questo è tutto quello che posso fare gerard non desidera vedere nessuno nessuno vive solo viviamo soli e abbiamo preso questa casa proprio perché ci avevano detto che quella accanto era occupata solo per pochi giorni all'anno da una persona che non si vede mai e aggiunse con la voce velata di tristezza dovete perdonare gerard messie non riceviamo mai visite da nessuno buongiorno messie madame voi il capitano ricevete delle visite di tanto in tanto rispogli con impazienza per esempio so che stasera attendete l'arrivo di alcuni amici con i quali avete fissato un appuntamento già da un anno la giovane signora rossì violentemente ma quello è un caso eccezionale un caso assolutamente eccezionale sono dei nostri amici molto particolari non appena ebbe pronunciato queste parole fuggì ma arrestandosi all'improvviso tornò sui suoi passi qualsiasi cosa abbiate intenzione di fare non venite da noi questa sera mi supplicò e sparì dentro il giardino tornai a casa mia e cominciai a spiare i miei vicini non si mostrarono e molto prima che facesse buio vidi che le persiane venivano chiuse e che delle luci penetravano attraverso le fessure proprio come era avvenuto quella incredibile notte di un anno prima ma questa volta non senti lo straordinario fracasso simile al tonante rullio di un tamburo di legno alle sette iniziai a vestirmi poiché mi ero ricordato dell'abito scollato indossato dalla signora della lampada le ultime parole di madame bovisage avevano rafforzato la mia decisione il capitano doveva ricevere certi suoi amici quella sera non avrebbe osato rifiutare di vedermi dopo essermi vestito mi venne l'idea di infilarmi il revolver nella tasca del vestito ma lo lasciai dov'era considerandola un'idea sciocca in realtà sciocco fu il lasciarlo a casa quando giunsi sulla soglia di villa macoco provai ad abbassare la maniglia del cancello la stessa maniglia che l'anno precedente si era mosso da sola con mia grande sorpresa il cancello si aprì quindi i miei vicini aspettavano visite camminai verso la casa e bussai avanti gridò una voce riconobbi la voce di gerar ed entrai con fare spedito passai attraverso l'ingresso poi vedendo socchiusa la porta di un salottino e la luce che ne proveniva entrai gerar sono io e schiamai il tuo vecchio amico michael alban ah allora ti sei deciso a venire caro vecchio michael ho appena finito di dire a mia moglie che ero sicuro che saresti venuto e quanto sarei stato contento di vederti ma tu sei solo da parte i nostri amici particolari lo sai caro michael non sei cambiato affatto sarebbe impossibile tentare di descrivere la mia sorpresa sentivo la voce di gerar ma non c'era nessuno vicino a me non c'era nessuno in quel salotto quindi la voce riprese perché non ti siedi mia moglie sarà qui tra poco perché si ricorderà di avermi lasciato sulla mensola del camino guardai all'insù e scoprì che sopra di me poggiato sulla mensola vi era un busto era quel busto che parlava somigliava a gerar era il tronco di gerar era stato piazzato sulla mensola proprio come si usa poggiare i ritratti a mezzo busto sulle mensole era tale e quale quelli scolpiti dagli scultori cioè senza braccia non ti posso stringere la mano caro michael disse la voce perché come vedi non ho mani ma se ti alzi in punta di piedi puoi prendermi in braccio e mettermi sul tavolo mia moglie mi ha messo qui perché si era arrabbiata diceva che l'era d'impiccio mentre spazzava la stanza è proprio un po strana mia moglie e a questo punto il busto scoppiò in una fragorosa risata mi sembrava di essere vittima di un'illusione ottica come talvolta capita in certi giochi in cui si vedono teste e spalle di persone vive e vegete sospese a mezz'aria per mezzo di specchi e trucchi ma dopo che bippoggiato il mio amico sul tavolo come mi aveva chiesto dovette ammettere che la sua testa e il suo busto privo degli arti era tutto ciò che rimaneva del brillante ufficiale che avevo conosciuto tempo addietro il suo corpo era fissato su una piccola base fornita di rotelle come certi mutilati privi di gambe solo che gerard non aveva neppure dei moncherini pensare che del mio vecchio amico non rimaneva altro che un busto aveva dei piccoli uncini al posto delle brazza e le mie parole non basterebbero a descrivere il modo in cui facendo leva ora su un uncino ora sull'altro egli riusciva a saltare saltellare e a eseguire altri mille agili movimenti dalla tavola a una sedia e da quella al pavimento per poi riapparire improvvisamente di nuovo sul tavolo dove finalmente si abbandonava alle più gaie chiacchiere io invece ero ridotto in uno stato di profonda costernazione ero senza parole guardavo quel mostro eseguire le sue capriole e dire con un sorriso che suscitò le mie preoccupazioni sono molto cambiato immagino devi ammetterlo mio caro maico quasi non mi riconosci hai fatto molto bene a passare stasera ne vedremo delle belle stiamo aspettando degli amici molto speciali e come sai a parte loro non ho voglia di vedere nessuno per una questione di orgoglio non abbiamo neanche una persona di servizio ma ora aspettami qui vado a mettermi lo smoking mi lasciò quindi solo e quasi subito apparve la signora della lampada indossava lo stesso abito scollato dell'anno precedente non appena mi vide sembrò stranamente turbata e disse con voce innaturale eccovi qui avete commesso un errore capitano michael ho riferito il vostro messaggio a mio marito ma vi avevo proibito di venire questa sera devo dirvi che quando ha saputo che eravate qui mi ha chiesto di invitarvi per questa sera ma io non l'ho fatto perché continuò in evidente imbarazzo avevo le mie buone ragioni abbiamo certi amici molto particolari un po difficili amano il rumore il fracasso forse li avrà sentiti l'anno scorso aggiunse lanciandomi uno sguardo di sottecchi beh mi prometta che andrà via presto le prometto di andarmene presto madame le risposi e un vago presentimento si impossessò di me mentre sentivo che il senso di quella conversazione mi era completamente sfuggito glielo prometto sinceramente ma vorrei tanto sapere come mai il mio vecchio amico si trova in questo stato quale terribile incidente lo ha ridotto così nessun incidente me se ve lo assicuro cosa significa nessun incidente non siete a conoscenza delle circostanze in cui ha perso le brazza e le gambe eppure deve essere accaduto dopo il vostro matrimonio no messie no mi sono sposata con il capitano come voi lo vedete ora ma vogliate scusarmi i nostri ospiti saranno qui a momenti e io devo aiutarlo a indossare lo smoking mi lascio quindi solo e allora cercai di riprendermi dall'effetto di quella notizia aveva sposato il capitano nello stato in cui si trovava tuttora quasi immediatamente sentì dei rumori provenire dal vestibolo erano gli stessi strani rumori che avevano accompagnato l'apparizione della signora della lampada presso il cancello del giardino e che mi avevano tanto meravigliato l'anno precedente quel rumore fu seguito dall'ingresso di quattro mutilati senza braccia né gambe sistemati sulle loro piccole piattaforme a rotelle che mi guardavano con grande meraviglia tutti indossavano abiti da sera su misura e sfoggiavano candidi sparati uno di loro portava dei pinsnets dorati un altro più anziano degli occhiali un terzo il monocolo e il quarto si contentava di squadrarmi con i suoi occhi fieri pieni di arguzia in cui si leggeva un'espressione leggermente annoiata tutti e quattro tuttavia mi salutarono con i loro uncini e chiesero dove fosse il capitano bovisage dissi loro che si stava vestendo e che madame bovisage godeva di ottima salute quando mi presi la libertà di nominare madame bovisage mi accorsi che si scambiavano degli sguardi che sembravano tradire una certaria di scherno presumo che voi siate un grande amico del nostro bravo capitano disse con voce strascicata il mutilato col monocolo gli altri sorrisero con un'aria molto poco rassicurante e poi cominciarono a parlare tutti insieme scusi scusi messie naturalmente siamo molto sorpresi di incontrarvi in casa del nostro bravo capitano che giurò il giorno stesso del suo matrimonio che si sarebbe seppellito in campagna con sua moglie senza ricevere mai nessuno tranne i suoi amici più intimi si intende quando si è così irreparabilmente mutilati come il capitano ha scelto di essere e si è sposati con una donna così avvenente è molto naturale ma se dopo tutto nel corso della sua vita egli ha avuto l'occasione di incontrare un uomo che pur non essendo mutilato sia ugualmente un uomo d'onore non possiamo che esserne contenti congratulazioni signore e ripeterono ne siamo contenti ci congratuliamo con voi signore e dio quei piccoletti erano proprio buffi e osservai senza profegire parola altri arrivarono a gruppetti di due o tre tutti mi guardarono con sorpresa imbarazzo o noia a parte mia io ero mutolito dallo spettacolo che mi si presentava poiché non avevo mai visto un tale assembramento di uomini senza braccia né gambe ora finalmente cominciavo a capire alcuni degli eventi straordinari che mi avevano tanto turbato ma nonostante la presenza di tutti quei mutilati spiegasse molte cose il motivo della loro presenza era ancora un interrogativo come del resto anche la mostruosa unione tra quella donna splendida e quell'orribile avanzo di uomo per la verità a quel punto mi era facile capire come mai non ero riuscito a scorgere quei piccoli tronconi ambulanti nel loro tragitto lungo il sentiero bordato di verbena e sulla strada lungo la quale crescevano delle basse siepi e allora in verità mi resi conto che quando avevo concluso che fosse impossibile non vedere una persona che percorresse quel tratto intendevo in realtà una persona che stesse ritta sulle sue gambe la maniglia del cancello del giardino non mi dava più pensiero e mentalmente potevo facilmente immaginare l'uncino che l'aveva messa in azione lo strano rumore che avevo sentito non era altro che lo scricchiolio delle rotelline poco oliate su cui quei mostriciattoli si muovevano inoltre lo straordinario rumore simile al rullio di un tamburo di legno era ovviamente causato dalle piattaforme a rotelle e dai mille uncini che colpivano il pavimento quando alla fine della cena i nostri amici si dedicavano al ballo sì era tutto spiegabile ma mi accorsi vedendo una strana espressione di gioia nei loro occhi e sentendo il bizzarro tintinio dei loro uncini che un segreto terribile rimaneva insoluto un segreto di fronte al quale tutto ciò che mi aveva sorpreso fino a quel momento non aveva alcuna importanza intanto madame bovisage era apparsa al fianco del marito furono accolti da espressioni di giubilo gli uncini applaudirono fragolosamente ne fui assordato poi si fecero le presentazioni si vedevano mutilati ovunque sui tavoli sulla sedia sugli sgabelli sui piedistalli solitamente occupati da vasi di fiori e sulla credenza uno di loro si era seduto sulla mensola di una cassettiera e assomigliava a un piccolo buddha a riposo ognuno mi porse educatamente il suo uncino per la maggior parte sembrava gente che occupava una buona posizione con titoli e nomi che si ricollegavano a famiglie aristocratiche ma in seguito seppi che quelli erano nomi falsi che mi erano stati dati per motivi che più tardi saranno evidenti lord wilmer era quello che faceva la miglior figura con la sua barba dorata e i suoi magnifici mustacchi che accarezzava in continuazione con il suo uncino non si lanciava dalle sedie al tavolo come gli altri né aveva l'aria di un enorme pipistrello alleggiante tra le quattro pareti della sala stiamo solo aspettando il dottore disse la padrona di casa che ogni tanto mi lanciava un'occhiata di evidente disperazione per poi riassumere il sorriso destinato ai suoi piccoli ospiti il dottore finalmente arrivò anche lui era un mutilato ma possedeva entrambe le braccia ne offrì una madame e la condusse verso la sala da pranzo con questo voglio dire che lei toccò il suo uncino con la punta delle dita la sala da pranzo aveva le persiane chiuse ed era stata apparecchiata con grandi tovaglie la tavola chiara imbandita con antipasti e fiori era illuminata da un grande candelabro non vi era frutta una dozzina di mutilati saltarono sulle sedie e cominciarono a infilzare il cibo con i loro uncini non era uno spettacolo molto piacevole e trovai sorprendente il vorace appetito con cui quei pezzi di uomini che poco prima mi erano apparsi così educati divoravano la loro cena poi all'improvviso tutto tacque i loro uncini si fermarono e mi sembrò che nella sala regnasse un certo penoso silenzio tutti gli sguardi erano fissi su madame bovisage che sedeva a fianco del marito e notai che la donna aveva nascosto il viso nel tovagliolo e aveva l'aria molto imbarazzata allora il mio amico cerare battendo insieme gli uncini allegramente esclamò beh miei cari vecchi amici non possiamo evitarlo non possiamo aspettarci di essere fortunati oggi quanto lo siamo stati l'anno scorso ma non vi preoccupate con l'esercizio dell'immaginazione riusciremo ad essere altrettanto felici quanto lo fumo quando evolgendosi verso di me alzò per mezzo del lanza il bicchiere che gli stava dinanzi alla tua mio caro michael a noi tutti declamò ognuno sollevò il bicchiere per mezzo del lanza tenendola con il proprio uncino i bicchieri tintinnarono in maniera molto elegante il mio mio caro michael ti ricordavo più gioviale ma forse è perché ci vedi così che sei tanto tetro cosa ti aspettavi noi siamo quel che siamo ma lasciamo perdere e troviamo piuttosto il modo di distrarci ci siamo incontrati qui tra amici molto particolari per celebrare il giorno in cui siamo diventati così non è vero amici miei della dafne allora il mio vecchio compagno disse con profondo sospiro il capitano michael si raccontò che la ciurma si era salvata per mezzo delle scialuppe di salvataggio e come alcuni degli sfortunati passeggeri fossero riusciti a mettersi in salvo su una zattera di fortuna miss meds una bellissima giovane che aveva perso entrambi i genitori nella catastrofe trovò anche lei rifugio sulla zattera 13 persone vi trovarono posto alla fine dei primi tre giorni tutti i viveri erano stati consumati e alla fine della settimana i superstiti erano ridotti alla fame fu allora che come dice la vecchia canzone decisero di giocare a sorte per stabilire chi sarebbe servito da cibo agli altri messier aggiunse il capitano michael con voce seria probabilmente queste cose sono successe più spesso di quanto si pensi benché non vengano menzionate anche perché le grandi onde azzurre spesso suggellano nelle loro profondità questi particolari eventi manducatori gli occupanti della zattera erano dunque giunti al punto di giocare a sorte quando improvvisamente si udì la voce del dottore madame messier disse il dottore voi avete perso tutti i vostri averi nel naufragio della nave ma io sono riuscito a salvare la valigetta coi miei ferri e il mio forcipe per arrestare le emorragie questo è il mio suggerimento non vi è motivo di uccidere uno di noi per potersene cibare interamente per cominciare potremmo giocarsi a sorte solo un brazzo o una gamba a piacimento e vedere quello che ci porta il domani forse una vela apparirà all'orizzonte a questo punto i quattro lupi di mare che avevano seguito fin qui il racconto del capitano michael lo interruppero esclamando ben detto ben detto cosa significa ben detto chiese il capitano michael corrugando la fronte sì ben detto la sua storia fa ridere quelle persone erano pronte a perdere un brazzo o una gamba ciascuno è proprio una storia da ridere non c'è niente di spaventoso in tutto questo e così trovate che sia una storia divertente prontolò il capitano che si era rigidito per la stizza beh vi giuro che se foste stati seduti tra quei mutilati con gli occhi che brillavano come tizzoni e aveste sentito quella storia non ci avreste trovato molto da ridere e se aveste potuto notare quanto si agitavano sulle loro sedie e con che vivacità si agganciavano tra di loro ai due lati della tavola la loro grande gioia mi sembrava evidente ma non ne comprendevo il motivo e questo aumentava la mia preoccupazione no no lo interruppe nuovamente chalier il vecchio chalier la vostra storia non è affatto paurosa è semplicemente comica perché è logica volete che indovini io il finale della storia poi mi direte se ho indovinato o meno i naufraghi della zattera tirarono a sorte toccò a miss madge perdere uno dei suoi arti ben torniti il vostro amico il capitano che è un gentiluomo si offrì di sacrificare i suoi e si fece amputare tutte e quattro le membra per far sì che miss madge rimanesse in colume sì amico mio lei ha indovinato è andata proprio così esclamò il capitano michael che provava un forte desiderio di rompere la testa a quegli imbecilli che ridevano del suo racconto sì e inoltre quando alla fine si trattò di tagliare le membra di miss madge dopo che si erano tagliate tutte quelle degli altri sopravvissuti e tutti i naufraghi eccetto la giovane il dottore che non era stato privato delle braccia ovviamente avevano perso le braccia e le gambe il capitano bovisage ebbe il coraggio di farsi tagliare perfino i poveri moncherini che gli erano rimasti dalla prima operazione e la giovane donna non poteva concedere all'eroico capitano la mano che lui aveva salvato in maniera così eroica sintromisce zin zin e voi la considerate una cosa divertente ma certo bofonchiò nella barba il capitano e mangiarono la carne completamente cruda nel chiese quello sciocco di bagatelle il capitano michael colpì il tavolo con un pugno così sonoro che i bicchiari si misero a ballare come palline di gomma basta così tacete tutti gridò tutto quel che vi ho raccontato non è ancora nulla ora comincia la parte più terribile i quattro amici si scambiarono uno sguardo sorridendo il capitano michael in pallidì a quel punto vedendo che si erano spinti troppo oltre abbassarono il capo sì la cosa più spaventosa continuò michael con la sua espressione più tetra era dovuta al fatto che quelle persone furono salvati dopo un mese da un legno cinese che gli fece sbarcare da qualche parte sullo yanz e kiang dove si separarono ma la cosa più terribile fu il fatto che quella gente aveva ormai cominciato ad apprezzare il gusto della carne umana quando ritornarono in europa si riunirono una volta all'anno per ripetere il più fedelmente possibile il loro abominevole banchetto beh signori non ci misi molto a scoprirlo prima di tutto certi piatti che madame bovisaci in persona aveva portato in tavola erano stati accolti con un'aria assai poco entusiasta benché si fosse permessa di dichiarare con aria molto poco sicura che erano quasi la stessa cosa gli ospiti si astennero tutti dal farle i complimenti solo certe fette di tonno erano state accolte con un certo favore per il fatto di essere ben tagliate per usare l'espressione del dottore e benché il sapore non fosse del tutto soddisfacente l'occhio poteva essere tratto facilmente in inganno ma il mutilato con gli occhiali fu lodato da tutti quando dichiarò che non erano saporite quanto l'idraulico sentendo quelle parole mi sigerò il sangue nelle vene ringhiò il capitano michael con voce roca perché mi ricordai che per sapoco in quel periodo un anno prima un idraulico era caduto da un tetto vicino all'arsenale rimanendo ucciso ed era stato recuperato l'intero corpo meno un braccio allora proprio allora non riuscii a fare a meno di pensare al ruolo che la mia bellissima vicina doveva aver necessariamente giocato in quell'orribile dramma culinario mi voltai a guardarla e notai che aveva nuovamente indossato i guanti un lungo paio di guanti che le coprivano le braccia fino alle spalle e che si era coperta le spalle con uno scialle in modo da nasconderle totalmente il commensale alla mia destra il dottore l'unico che come vi ho detto aveva conservato intatte le brazza aveva indossato anche lui i guanti invece di preoccuparmi di scoprire la ragione di quella ennesima stranezza avrei fatto bene a seguire il consiglio che mi aveva dato madame bovisage all'inizio di quella festa infernale ossia di lasciare presto la villa un ammonimento che lei non aveva più ripetuto madame bovisage dopo aver dimostrato nei miei confronti un certo interesse misto a pietà durante la fase iniziale di quell'incredibile festino ora evitava di guardarmi e assunse un atteggiamento che mi addolorò molto nella più abominevole conversazione che io abbia mai udito in anerottoli si erano lasciati andare a vivaci recriminazioni e alle più calde congratulazioni circa i rispettivi appetiti facendo un gran chiasso con i loro uncini e bicchieri con orrore vidi lord wilmer che fino allora era stato molto composto venire agli uncini con il mutilato col monocolo a causa del fatto che una volta sulla zattera quest'ultimo lo aveva accusato di essere coriaceo la padrona di casa era riuscita con grande difficoltà a ristabilire la verità rispondendo al nano monocoluto che ai tempi del naufragio doveva essere stato un giovane virgulto che anche il sapore della carne di un animale troppo giovane non era stato molto piacevole questa è proprio da ridere sbotò dorà il vecchio marinaio il capitano michael era sul punto di saltar di al collo anche perché gli altri tre vibravano di larità repressa che sfogavano di tanto in tanto con strane piccole risatine il capitano riusciva a controllarsi a stento dopo aver sbuffato come una foca si rivolse all'incauto dorà messie voi avete ancora due braccia e io non desidero che ne perdiate una come capitò a me in quella notte per farvi capire quanto questa storia sia spaventosa i mutilati avevano bevuto molto alcuni saltarono sulla tavola e mi circondarono e stavano squadrandomi le braccia in maniera molto imbarazzante tanto che finì per nasconderle alla vista quanto possibile affondando le mani dentro le tasche mi resi conto allora il pensiero mi allarmò del motivo per cui madame bovisage e il dottore le uniche due persone che avevano ancora le braccia e le mani non le mostrassero un tratto compresi il significato dell'improvviso lampo di ferocia che vedevo negli occhi di alcuni di loro in quel preciso istante come volle il caso ebbi bisogno di usare il mio fazzoletto estintivamente fece un movimento mostrando la pelle bianca sotto la manica in un lampo tre uncini acuminati si abbatterono sul mio polso entrandomi nelle carni urlai forte basta così capitano basta così esclamai interrompendo il racconto del capitano avevate ragione me ne vado non posso sopportarlo oltre rimanete messie rispose il capitano in tono perentolio rimanete messie perché presto avrò terminato questo terribile racconto che ha fatto tanto ridere questi quattro imbecilli quando un uomo ha sangue focese nelle vene aggiunse in tono di disprezzo volgendosi verso i quattro vecchi marinai che stavano evidentemente cercando di soffocare le loro risa quando un uomo ha sangue focese nelle vene non c'è nulla da fare e quando un uomo vive a marsiglia è destinato a non credere mai a nulla e quindi è per lei solo per lei messie che io racconto questa storia e le assicuro che non mi soffermerò sui dettagli più terribili sapendo quanto riesce a sopportare un vero gentiluomo la tragedia del mio martirio procedette così speditamente che ricordo solo le grida inumane le proteste di alcuni la correre di altri mentre madame bovisage si era alzata in piedi mormorando state attenti non fategli del male cercai di balzare in piedi ma ormai un nugolo di mutilati impazziti mi aveva circondato con uno sgambetto mi fecero cadere al suolo compresi che ormai mi tenevano prisioniero con i loro terribili uncini come se fosse un pezzo di carne appesa nella bottega del macellaio sì messie le risparmierò i dettagli le ho dato la mia parola anche perché non potrei fornirglieli perché non vidi l'operazione il dottore infatti mi mise un tampone imbevuto di cloroformio sulla bocca come bavaglio quando rinvenni ero in cucina e avevo perso il brazzo i mutilati erano tutti intorno a me avevano smesso di litigare e sembravano uniti da una commovente armonia in realtà erano in uno stato di abititudine tale che le loro teste ciondolavano come bambini assonnati dopo un grande pranzo e non avevo dubbi che avessero iniziato ahimè a digerirmi ero stesso a terra ben legato senza potermi muovere di un millimetro ma riuscivo a vederli e a sentirli il mio vecchio compagno gérard bovisage piangeva di gioia mentre esclamava non avrei mai creduto che tu fossi così tenero madame bovisage non era presente ma anche lei doveva aver preso parte al festino perché udì qualcuno chiedere a gerard se sua moglie aveva gradito la sua parte sì messie ho terminato il mio racconto questi orribili mutilati avendo soddisfatto la loro voglia si resero finalmente conto della loro malvagità si dileguarono e madame bovisage scomparve con loro lasciarono le porte spalancate ma ci vollero quattro giorni prima che qualcuno venisse a liberarmi quando ormai ero mezzo morto dalla fame quei miserabili non mi avevano lasciato nemmeno l'osso del mio braccio